Oggi molti autorevoli osservatori identificano nell'Italia uno dei paesi con più alto potenziale di crescita. In Italia, infatti, c'è il più alto numero di siti patrimonio dell'umanità. I dati dal 2006 fino al 2012 riflettono questo cambiamento con un afflusso dei visitatori stranieri in Italia in continua crescita, trainato dai turisti provenienti dai paesi emergenti come Cina e Russia. I paesi emergenti sono sicuramente una fetta di domanda sempre maggiore. Qualche anno fa i russi praticamente se ne erano pochi e poi hanno avuto un trend di crescita importante. Adesso sono i cinesi e i brasiliani, ad esempio, che stanno dominando i nuovi flussi d'ingresso e soprattutto diventano sempre più high spender, quindi poco alla volta sono entrati, inizieranno anche a spendere, quindi non entrano a livello basso, entrano a livello medio-alto, sono proprio alto. Cosa che fino a qualche anno fa non ci si aspettava neanche, i cinesi in Italia e i turismi c'erano pochissimi. Basta vedere adesso cosa sta succedendo con l'Expo e il flusso continuo di persone che arrivano in questi paesi recentemente industrializzate in forte via di sviluppo. Sempre nell'ambito della strategia unica del turismo in Italia è importante anche la parte del settore immobiliare. Gli investimenti immobiliari esteri stanno diventando importanti, questo significa che c'è un flusso non soltanto di denaro ma anche di persone dall'estero e che saranno sempre più continue. Ad esempio con la Cina c'è un accordo Italia-Cina per poter acquistare in Italia degli immobili e con quello avere una sorta di residenza elettiva, la possibilità di residere in Italia liberamente. Questa è una delle alternative che in altri paesi hanno già fatto, ad esempio in Portogallo o in Spagna, che devono avere una finestra temporale limitata, chiaramente non possono durare in eterno, ma che in quel periodo lì coptano e diventano dei catalizzatori per quei mercati. Quindi in questo momento il mercato principale è la Cina da questo punto di vista. I turisti prevenienti dai paesi emergenti stanno crescendo a doppia cifra, in particolare sul nostro sito i cinesi e indiani crescono del 30% anno su anno, mentre a livello generale crescono del 10-15%. L'Italia è la meta principale, penso, a livello mondiale per il turista cinese, ad esempio. Tutti sognano di venire in Italia, a Venezia, a Roma e a Firenze. I cinesi acquisterebbero proprietà in Italia, soprattutto per il fatto che l'euro si è indebolito molto in confronto al dollaro. Adesso le case in Italia, rispetto alle grandi città cinesi, costano circa la metà.